Primo e unico caso in Italia dove uno sport pubblicitario è stato sanzionato perché imitava o plagiava un musicista molto famoso senza autorizzazione. Nuovo appuntamento con curiosità e commenti su di sport anni 80 è un appuntamento che tra un po' assumerà un altro nome sto cercando un po' di fare un'evoluzione sì perché questi speciali erano sempre molto lunghi e probabilmente diventavano un po' pesanti allora ho cercato di ridurli un po' di farli un po' più sintetici senza stare lì a parlare troppo ma dando molto spazio alle curiosità e molto spazio ai vostri commenti quelli più belli e riducendo magari la durata e il numero degli spot che ogni volta andiamo a vedere quindi penso che questa serie di speciali potrebbe intitolarsi più correttamente 5 curiosità sugli sport anni 80 oppure curiosità su 5 sport anni 80 voglio metterci 5 e mezzo vediamo un po' cosa viene fuori magari se avete qualche suggerimento per un nome nuovo da dare a questa serie di appuntamenti fatemelo sapere. Io sono Michele ciao a tutti questo è spot 80 la casa degli sport anni 80 iscrivetevi alla pagina attivate la campanella perché molti di voi visitano spot 80 come nuovi visitatori non sono iscritti circa il 90 per cento di voi se tutti quelli che visitano spot 80 almeno una volta si iscrivessero per me sarebbe un grandissimo aiuto e sarebbero molti molti di più gli iscritti al canale e questo mi aiuterebbe a produrre contenuti con sempre più entusiasmo se il progetto spot 80 vi piace particolarmente andate su spot 80.tv e fate una donazione del valore che preferite ma se fate una donazione fenomenale diventerete dei sostenitori esclusivi verrete nominati nei video che realizzo nel sito internet e soprattutto potrete ricevere una maglietta esclusiva ispirata agli sport anni 80 tutti i dettagli su spot 80.tv adesso ci occupiamo di un caso molto particolare ecco questo rappresenta il primo e unico caso in italia da sempre di condanna per un utilizzo di una voce che imita un artista famoso è il caso che ha visti in contrasto angelo branduadi e buitoni storia risalente al 1983 e che poi ha avuto una conclusione in sede giudiziaria nel 1993 quindi ben dieci anni dopo ma è comunque il primo e unico caso in italia dove uno spot pubblicitario è stato sanzionato perché imitava o plagiava un musicista molto famoso senza autorizzazione ma andiamo a vedere gli spot vediamo se ci riescono qui ecco come al solito si sbaglia ma si corregge subito sono tre spot andiamo a sentire qual è il problema che c'è stato tra branduadi e la buitoni grazie sfiga che racchiudi la ricchezza del grano intero e ce la dai buona e fragrante nelle fette buitoni con farina integrale buone per far bene fette biscottate buitoni vitaminizzate fette con farina integrale e anche fette dolci al latte e miele buone per far bene ok vediamo il secondo c'era una volta e c'è la tela boriosa che col sepoglierà il mezzare dal fiore grazie api del buon miele che fa più ricche le fette buitoni al latte e miele buone per far bene fette biscottate buitoni vitaminizzate fette con farina integrale e anche fette dolci al latte e miele buone per far bene c'era una volta e c'è il calore del buon sole che vitamine dà a tante buone cose sono le vitamine così importanti a rendere speciali le fette buitoni vitaminizzate buone per far bene fette biscottate buitoni vitaminizzate fette con farina integrale e anche fette dolci al latte buone per far bene allora qual è stato il problema di questi spot è stata utilizzata una voce che imita molto quella di angelo branduardi e ecco io ho recuperato un po la storia qui c'è un articolo su questo sito che riporta proprio la sentenza in breve buitoni vuole fare uno spot con un con angelo branduardi con la voce di angelo branduardi prima discutono un po poi non si mettono d'accordo alla fine buitoni decide di usare la stessa idea e lo stesso stile di angelo branduardi e facendo realizzare un jingle a qualcun altro imitando branduardi risultato spot ritirato causa di branduardi e causa che va avanti per dieci anni perché come si legge qui angelo branduardi conveniva industria chiedendo nella condanna risorciamento e danni patrimoniali non patrimoniali da essi subiti per la diffusione attraverso le maggiori emittenti nazionali di un messaggio musicale che pubblicizzava il prodotto buitoni costituente plagio o contraffazione di un brano colore del branduardi stesso chiedevano il predetto autore di essere risarcito per la lesione del diritto all'immagine del diritto allo sfruttamento esclusivo del brano di cui erano cessionari cioè in pratica hanno branduardi la sua società accusato il buitoni di aver plagiato un suo brano ecco comunque nel 93 vengono condannati i buitoni e le altre aziende menzionate al pagamento dei diritti per aver plagiato questa canzone che vi farò sentire in breve la posso fare e eccola qua volto tuo che ho disegnato chino per terra io lo ho dipinto ho usato il nero per i tuoi occhi e bianca sabbia per la tua pelle quando la pioggia l'avrà lavato e i tuoi colori confuso e quando il vento sarà passato sarà alla fine guarito la somiglianza direi che è indubbia e quindi questo è stato il primo e unico caso in Italia di plagio in ambito musicale associato alla pubblicità quindi ecco questa è una cosa particolare che è successa negli anni 80 e che vi ho voluto riportare eh che suono eh questa qui è la l'inizio della compilation mixage mixage certo mixage del 1983 fino a 83 inizio 84 mixage volume 2 anche se in realtà nessuna di queste compilation aveva realmente un una numerazione erano tutte chiamate mixage però uscivano una volta ogni sei mesi praticamente dalla prima dell'estate 83 per i successivi 7-8 anni presumo adesso non mi ricordo ebbene lo spot del mixage proprio di questa compilation il volume 2 è stato uno dei vostri preferiti nel mese di gennaio qui su spot 80 e fermo un attimo ce l'andiamo a rivedere perché ci fa tanto tanto piacere cerchiamo anche di capire quali sono i ricordi che ha suscitato in voi ma io devo fare un'altra cosa però devo fare questo e poi questo e poi faccio play ecco l'ho disco o cassetta scendi mixage è nuovo è irresistibile è il tuo mixage una montagna di successi con gazebo flash dance casanova paris latino no controlles e i twins i fantastici pink project buttati è il nuovo mixage è una produzione oh ragazzi c'è da dire tantissimo cioè su mixage si potrebbe veramente dire tantissimo perché è uno degli emblemi degli anni 80 proprio le compilation mixage erano uno degli emblemi degli anni 80 non so se riesco a farvi vedere qualcosa da eccolo qua da wikipedia giusto per rinfrescarci la memoria o per così dare qualche informazione a chi non sa cosa che cos'era mixage una serie di compilation musicali considerata un'icona degli anni 80 pubblicate dalla baby records come si vedeva prima e distribuite dalla cg di messaggerie musicali erano dei dj mix ok quindi delle compilation mixate di musica italo disco che fu proprio lanciata dalla baby records fu diciamo il motivo del successo della baby records mixati da Massimo Noè, Pino Santapaga i baby studios di Milano chissà dove erano i baby studios non lo so copertine iconiche erano sempre dei disegni disegnate e firmate da Enzo Monbrini bla 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 complessivamente 10 compilation dall'83 all'87 ogni anno un disco estivo uno invernale non c'è numero progressivo non vengono indicate le stagioni di riferimento motivo del grande successo fu anche il fatto che venivano pubblicizzati tanto in tv questi cd perché ci diranno questi vinili ecco diciamo così e cassette papapapapacco qui c'è tutta la lista quello che non viene detto però è che il contenuto era probabilmente un po' così al limite tra la altissima qualità e aggiustiamo un po' le cose mettiamola così ma andiamo con ordine prima di tutto saluto Angelo Pierangelo che ricorda che la voce narrante è del grande e mai dimenticato Leopardo alias Leonardo Rececconi un grandissimo dj è persona squisita prematuramente morto a 50 anni per un tumore alla laringe allora per chi è amante fan è appassionato di radio Leopardo è stato un personaggio enorme perché è stato quello che ha un po' caratterizzato il modo di fare radio negli anni settanta e anche un po' negli anni ottanta per dire Albertino che è un altro grandissimo della radio italiana aveva come era un idolo di Leopardo quindi seguiva Leopardo e aveva imparato a fare radio ascoltando Leopardo andatevi a cercare qualcosa su YouTube se siete curiosi sul modo di fare che naturalmente oggi risulterà un po' superato però la voce di Leopardo soprattutto per il modo di fare e poi anche per questa R un po' arrotata come la mia era assolutamente riconoscibile ed era qualcosa di unico Serena ci dice parlando della compilation ce l'ho l'ho ascoltata tantissimo e ogni tanto l'ascolto ancora il vinile è sempre il massimo da ascoltare sono abbastanza d'accordo Moreno ci dice compilation stupenda anni indimenticabili di meravigliosa musica le ho avute tutte e questo fino a qui tutto bene ok ci dice anche Agnese quelli sì che erano dei veri successi canzoni intramontabili che ricordiamo ancora oggi anni 80 sempre nel mio cuore grazie Agnese e qui partono parte un filone che era anche un po' prevedibile conoscendo i dettagli su mixage avendo ascoltato un po' le compilation con un orecchio un po' critico dice Davide veramente proprio questi dischi erano composti da musica italiano disco e cover e qui è un po' il punto credo metà della compilation era fatta da cover rincara la dose Stefano ma dove era musica spazzatura che durava una stagione proprio come adesso sono solo ricordi di infanzia punto Gian Maria ci ha messo il carico da mille erano cagate pazzesche Pink Floyd Rolling Stones Led Zeppelin i mixage non c'erano ragazzi punti di vista è chiaro che erano due robe diverse mixage erano delle compilation che cavalcavano un po' l'onda dell'italodisco che la Baby Records aveva contribuito a far nascere e quindi insomma si era era un come dire un circolo virtuoso per la Baby Records faceva uscire i dischi e i dischi avevano successo e poi venivano realizzate le compilation con i brani prodotti realizzati in Baby Records fossero anche cover insomma ci dice Monica ci fa vedere anche una bellissima foto e la ringrazio per questo io ce l'ho ancora troppi ricordi e vediamo un po' cosa c'è lì ci sono dei mixage c'è un disco dei Culture Club mix tour che doveva essere un'altra sullo stile di mixage quindi magari un po' di pezzi famosi pochi pezzi famosi e tante cover poi un sacco di singoli Phil Collins Thriller di Michael Jackson bello 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 grazie Monica per questa bellissima foto andiamo avanti Marco ci dice già soltanto risentire l'incipit disco cassetta pronunciati così con la decisione che ti dava l'assenza di alternative è di passe grandioso e commovente che spot la ricordo così bene la compilation era l'anno in cui davvero cominciava a seguire con una certa assiduità la musica da grandi dopo l'epopea delle sigle dei robotoni e simili mixage era quasi impossibile non averlo anzi non averli di sei mesi in sei mesi che nostalgia quando la musica era un'esigenza almeno per noi ragazzini che la dovevi aspettare cercare anelare già consumistica vero ma certamente non un prodotto dozzinale come oggi alcuni hanno avuto da ridire come abbiamo visto in competizione fra i download di app storpi a voci o immagini un frullino Amazon per la casa o un buono groupon sino mixage che proprio non era la punta di diamante delle produzioni d'autore vedi qui c'è anche della sincerità ma un buon prodotto di intrattenimento su questo sono assolutamente d'accordo hai colto il punto emerge quasi prepotente erano gli spot e gli spot erano ancora spot fatti per rimanere poi per chi poi parla chi non ha più vent'anni ognuno è figlio del proprio tempo peccato non esserci per 40 anni per leggere quelli che saranno i commenti di teenager di oggi spoiler secondo me saranno gli stessi commenti che stiamo facendo noi oggi sulle cose di 40 anni fa quindi tranquilli non c'è pericolo ho ancora un'altra bella foto da parte di David anche lui lo ringrazio con una bellissima console da DJ con due piatti i Technics 1200 credo che siano non vorrei sbagliarmi quindi grandissimo vinile di Ken Laszlo e vinile di mixage esattamente quello che abbiamo visto nello spot quindi grazie David per questa bellissima immagine questo era il primo ci dice Roberto sì possibile mixage non lo so onestamente non me le ricordo le copertine vediamo un po' se c'è la copertina da qualche parte mixage 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 non la trovo mixage 1 vabbè niente non lo so mi fido mi fido sarà lui e poi cosa abbiamo altre immagini bellissimo addirittura Marco ha incorniciato il vinile di mixage volume 2 inverno 83 e poi cosa abbiamo se la watt di caroline lobe il il vinile il singolo e anche rough con self control quello dovrebbe essere bello 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 complimenti Marco bella bella foto bell'idea aver incorniciato la copertina con il disco che sporge dalla copertina molto molto bello originalissimo ok abbiamo finito spero che questo viaggio nei ricordi legato a mixage vi sia piaciuto naturalmente siete sempre liberi di mandare le vostre foto quando commentate anzi fatelo perché io poi le uso le mostro e vi saluto quando quando insomma ci ritroviamo per l'appuntamento mensile di curiosità e commenti continuate a commentare sui social di spot 80 torniamo a parlare di uno spot che abbiamo visto nel precedente episodio è una cosa che di solito non facciamo però siccome sono arrivati altri commenti vale la pena riguardarlo e riparlarne un attimo introduco lo spot 1985 per Danapp della Danone vediamo se riesco a farlo vedere eccolo qua che cosa che cosa ci avete scritto in realtà che cosa ha scritto Lorenzo Ruttili Lorenzo Ruttili è un mio carissimo amico e collaboratore del progetto spot 80 dall'inizio praticamente fate conto che spot 80 è nato su mia iniziativa ma con la collaborazione di altre tre persone uno l'ho presso di vista completamente un saluto anti pop non so nemmeno come come si chiamasse di nome un altro Enzo Capasso che sento ancora di tanto in tanto e so che segue spot 80 quindi ti saluto ma poi c'è anche Lorenzo Ruttili Lorenzo Ruttili è noto e più per Celestino Camicia per essere Celestino Camicia cioè colui che ha inventato anni e anni fa in maniera totalmente inconsapevole la Scagnodei cioè lui ha inventato Lascia l'entrata a Scagnio dall'8 di gennaio la canzone travisata più famosa che esiste in Italia e che è poi diventata a Scagnodei l'8 di gennaio allora Lorenzo che è un è un archivio storico vivente praticamente ricorda tutto quasi molto meglio di me fa notare questo scrive nel commento che vediamo insieme i 900 sono italianissimi Dora caro figlio e fratelli Pino Lino e Rossana Nicolosi so da fonti certe che all'epoca vivevano a Zibido sarebbe Zibido da quello che so io Zibido di San Giuliano di Milanese io conosco Zibido San Giacomo che è comunque sempre in provincia di Milano e Milano Sud probabilmente è quello ma comunque un altro loro brano I Need Love divenne nei primi anni 90 colonna sonora di alcuni spot dietro notare che e questa è la cosa che mi piace sottolineare nel videoclip di Excessive Love appare nello schermo di un mini televisore proprio lo slogan del done up va giù che è una musica allora io chiederei alla regia di agevolare la verifica di questa informazione procediamo eccolo mostro il video come faccio di qua eccoci qua andiamo avanti allora c'è lui che sviene perché ha bevuto un drink prima cosa poi andiamo avanti un po' veloci eccolo qua quindi cercano di gli rubano qualcosa a comprare un vasetto a noi familiare e questa cosa mi fa un sacco ridere roba l'osca controllano su un mini televisore super futuristico ecco intanto una beve da questo vasetto va giù che è una musica il buon Lorenzo come immaginavo aveva perfettamente ragione poi c'è il vasetto di done up senza la scritta done up naturalmente lui beve e si riprende o fa finta di bere quantomeno molto bene molto bene fantastico ci occupiamo di automobili questa volta con uno sport del 1982 per l'usato targato Alfa Romeo oggi puoi comprare un'automobile usata con garanzia completa di un anno 49 esami riparazione gratuita delle parti meccaniche ed elettriche in tutta Europa pieni dal concessionario Alfa Romeo scopri le nove garanzie dell'usato come nuovo automobili di tutte le marche garantite un anno Alfa Romeo allora cosa dire di questo spot prima di tutto fammi mettere l'immagine finale se ci rilievo cosa è successo fammi mettere innanzitutto l'immagine finale così ci diventa un po' evocativa allora innanzitutto la colonna sonora è una colonna sonora assolutamente di rilievo perché è un brano del compositore Evangelis lo stesso che il brano si chiama Poolstar e lo stesso Evangelis che ha realizzato la colonna sonora famosissima utilizzata poi negli spot Barilla cioè hymn negli spot Barilla era stata creata una cover più cover in realtà poi ne parleremo in un'altra occasione però l'originale era hymn di Evangelis quindi Evangelis insomma è stato utilizzato più di una volta nella pubblicità anni 80 proprio per queste melodie molto all'avanguardia ecco mettiamola così ma a parte questa informazione che secondo me è molto interessante noto con piacere che gli sport di automobili vi vi acchiappano sempre un sacco sarà che tra di voi ci sono molti appassionati di automobili e quindi questo è il risultato mi mandate su Facebook le foto delle automobili quando voi le avete adesso io non sono esperto quindi magari mi potete un po' aiutare immagino che questa auto sia un Alfa Romeo ci ha mandato la foto Bilal lo ringrazio e vabbè si naturalmente sono auto ormai d'epoca che hanno fatto storia soprattutto immagino di Alfa Romeo ma mi piace il commento di Monia che dice io di fronte queste meravigliose Alfa e quindi come dicevo prima evidentemente tra di voi sia maschietti che femminucce ci sono molti molti appassionati di automobili ed è per questo che vi segnalo che questo mese nel mese di febbraio il 15 di febbraio esattamente quindi tra una settimana più o meno dal momento in cui viene pubblicato questo video pubblicherò uno speciale dedicato proprio alle automobili 80 spot anni 80 di automobili quindi non perdetelo se siete appassionati appunto di auto degli anni 80 andiamo a riscoprire uno spot di fine anni 80 del 1990 per la precisione che di tanto in tanto ritorna è uno spot abbastanza veloce meno di 30 secondi sono 20 secondi ma il jingle è molto bello e evidentemente il prodotto è rimasto molto nei vostri ricordi andiamo a scoprire di cosa si tratta allora qui mi avete fatto molto sorridere ma andiamo a vedere i commenti che sono arrivati allora ci scrive Giuseppe e chiede ma funzionava risponde Tania sì Cristina oh mi sono venuti i capelli verdi e Tina a me arancioni funzionava eh molto bene andiamo nel 1982 per uno spot di vacanze invernali con il mitico marchio Alpitour che appunto ci parla di questa interessante alternativa per i viaggi arriva l'inverno inverno marameo con Alpitour è sempre estate sì dal Mediterraneo ai tropici Alpitour vacanze comode vacanze libere sempre ben servite con Alpitour ogni settimana voli speciali diretti per vacanze al sole alla tua agenzia a viaggi chiedi Alpitour perché ma dove vai se i cataloghi Alpitour non li hai allora andiamo a vedere che commenti sono arrivati in realtà ne è arrivato uno soltanto di Danilo Oliva che saluto con piacere e dice curiosamente nel finale le ragazze cantavano ma dove vai che era la canzone di bellezza in bicicletta ma dove vai bellezza in bicicletta io non sono molto pratico questi film sono forse un po' troppo per film non lo so se erano dei film sto andando proprio al volo su YouTube a cercare ma la canzone era del trio d'Escano possibile scusate faccio una verifica come si deve allora andiamo su Google Google ecco qua ecco e cerchiamo bellezza in bicicletta bellezza in bicicletta canzone popolare allora vediamo qua wiki testi no ma io non voglio vedere album del quartetto c'è tra sì ma io non voglio vedere questo wiki testi ma non c'è wikipedia canzone wikipedia ecco qua bellezza in bicicletta allora è un film del 1951 bla 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 è successo commerciale ok ok i commenti successivi vabbè insomma penso che la canzone sia tratta dal film per cui se io faccio partire questo contributo a internet vediamo un po' ah no nel film e questo invece che cos'è? questo è il trio d'Escano non so da dove sto prendendo sto prendendo da da dei canali youtube ah no questa che non avesse ne rifatta ho messo la pasta così di fretta pedalando con a rodò le gambe snelle tornite belle ma hanno già messo la passione dentro al cuore ok perfetto fermiamo grazie quindi ci dice Danilo quindi un riferimento bellezza in bicicletta ma la voce fuori campo dice ma dove vai se i cataloghi al pitour non li hai farò dire della canzone mando vai se la banana non ce l'hai tratta da polvere di stelle quindi in realtà mando vai quindi hanno fatto questo clash favoloso tra due canzoni super famose mettendo insieme una musica e uno slogan che tra di loro in realtà non c'entrano niente questa è l'altra canzone vediamo un po' vabbè conosciamo tutti in realtà questo spot è il è quello dell'82 ma ce n'è anche uno nell'83 e lo andiamo a vedere ma dove vai se i cataloghi al pitour non li hai il mediterraneo è al pitour solo con al pitour 12 voli speciali diretti ogni settimana per canarie ibisa maggiorca costa del sole andalusia grecia tunisia malta i cataloghi al pitour ti aspettano in ogni agenzia viaggi ma dove vai se i cataloghi al pitour non li hai ma dove vai saluto Danilo che so che ci teneva tanto a riscoprire anche questo spot e quindi eccoti accontentato cari amici siamo arrivati alla conclusione di questo episodio di curiosità e commenti sugli spot anni 80 o meglio 5 curiosità sugli spot anni 80 oppure curiosità su 5 spot anni 80 non ho ancora deciso ragazzi avete capito che sono un po' così in balia delle idee che mi stanno frullando poi la mente ma se avete qualche consiglio mandatemelo e lo otterrò sicuramente in considerazione vi do appuntamento come dicevo prima alla prossima settimana per lo speciale dedicato alle automobili 80 spot anni 80 dedicato alle automobili e poi ci vediamo naturalmente sempre qui su spot 80 ogni settimana ogni mercoledì un contenuto esclusivo ogni giorno uno spot anni 80 rimanete qui su spot 80 ci vediamo presto un saluto da Michele un saluto da Michele